Previsioni meteo per martedì 6 novembre al nord coperto con pioggia debole o moderata nubi sparse con ampie schiarite in Romagna al centro coperto con pioggia debole sulla Toscana nubi sparse con ampie schiarite altrove al sud nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale calabra sereno altrove venti moderati da sud mari generalmente mossi temperature stabili ovunque